Ringrazio il Presidente Lupi per due minuti, facoltà di replicare. Grazie, signor Presidente. Signor Ministro e Ministro Boschi, ha fatto bene a ricordare da una parte, e sono contento che il Governo, e ne sono sicuro, manterrà l'attenzione e il monitoraggio su questa operazione, per quanto ovviamente di sua competenza, e ha fatto bene a ricordare che già il Parlamento, solo un paio di giorni fa, si è espresso e ha votato un'importante legge sul pluralismo e il rilancio dell'informazione. Mi permetta però di ricordare esattamente allo stesso modo i dati che lei ha pronunciato e che ha ricordato, anche per chi ci ascolta. Quando si parla di 5,8 milioni di lettori, quando si parla di tre quotidiani nazionali, quando si parla di 17 quotidiani locali, quando si dice che ci sono due concessionarie pubblicità, quando si dice che sono 2,5 milioni di utenti unici sul web, quando si dice che ci sono tre radio nazionali, certamente stiamo di fronte a un'importante operazione editoriale e imprenditoriale, ma siamo di fronte anche a un'importante, visto che il tema, l'oggetto è l'informazione e la comunicazione, a un'importante operazione di potere economico-culturale, totalmente legittimo, su cui però il Paese e l'Italia ha passato tantissime discussioni. Quante volte chi ci ha ascoltato e chi è presente qui in Aula ha sentito parlare del Lodo Mondadori? Quali sono state le reazioni che solo recentemente alla fusione Mondadori-Libri-RCS-Libri? Un gruppo importante imprenditoriale del Paese ha comunicato che uscirà dal capitale di RCS che riguarda l'altro grande e importante quotidiano nazionale che è il Corriere della Sera e che ha rappresentato il Corriere della Sera tanti punti di riferimento, tante lotte nel nostro Paese, tanto libertà di informazione. Per questo abbiamo voluto accendere una spia, perché noi siamo sicuri che è importante che il ruolo del Parlamento e del Governo e delle autorità di competenza riguarda quanto sta accadendo. Siamo assolutamente sicuri che la prima garanzia sarà la professionalità dei giornalisti che conosciamo. Ci saranno certamente ripercussioni sull'occupazione dei giornalisti, ma mi perdoni, certamente il silenzio non può aiutare ad accendere queste spie. Quello che è accaduto in questa settimana è quantomeno inquietante o ci pone delle domande. Concludo, signor Presidente, citando che noi non vogliamo dare ragione a quanto Chesterton, che è stato un altro grande scrittore, ma un altro grande giornalista, diceva. Non abbiamo bisogno di una censura sulla stampa. Abbiamo già una censura per mezzo della stampa. Noi siamo convinti che in Italia questo non accada. Siamo convinti che la stampa e la comunicazione e la multimedialità siano strumenti importanti per il pluralismo. Il Governo sta andando in quella direzione, ma il monitoraggio e l'attenzione...